belle soddisfazioni per le società vicentine al campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle spettacolo e sincronizzato che si è concluso domenica 25 marzo alla zoppas arena di conegliano quattro giorni di gare che come sempre hanno visto le compagini venete primeggiare nelle diverse categorie spettacolo con un buon bottino complessivamente 180 i gruppi in gara per un totale di 3000 atleti provenienti da un da 16 regioni italiani 11 titoli nazionali in palio e due se li sono assicurate le squadre beriche oltre ad un argento e un bronzo successo del crystal a convincere i giudici in particolare sabato sera è stata la prestazione del crystal skating team nella categoria grandi gruppi la squadra composta da 14 elementi e frutto della sodalizio fra varie società sportive è stato presentato il peso dei miei errori dedicato alla leggenda del giudizio sul dio anubi il crystal ricordiamo allenato da elisabetta restello e andrea fabris con un disco coreografato da daniel murandin quartetti divisione nazionale oro per fashion one di bassano argento per clio di zanet successo vicentino anche nella categoria quartetti divisione nazionale dove hanno brillato sia le ragazze di fashion one del bassano news skate prime con 74 90 punti il programma il mondo ha bisogno d'amore delle bassanesi prime classificate raccontava il miracolo di un fiore cresciuto tra le rocce e e e e e e e